Consiglio questo corso quindi sia ad amatoriali che a professionisti, consiglio di partire dalle basi perché comunque una ripassatina o comunque non si finisce mai di imparare, quindi magari qualcosina che non si sapeva poi si saprà perché comunque è preparatissimo Andrea e poi anche perché serviranno per i corsi più avanzati che Andrea ha nella sua accademia. Vabbè innanzitutto volevo ringraziare Andrea perché ha creato questi corsi che sono comunque molto interessanti, molto belli e di insegnarci i suoi trucchi, le sue tecniche, cioè ce le insegna in modo che proprio ce lo fa capire, ci entrano proprio anche ripetendo le cose, tutti i dettagli, le tecniche, sicuramente i suoi libri sono qualcosa di veramente da tenere chiusi in casa perché sono veramente interessanti. E' un piacere proprio ascoltarlo perché è preparato, gentile, quindi se avete anche dei dubbi, fate parte dell'accademia, avete dei dubbi in cinque minuti, avete la risposta perché comunque è sempre lì, sempre con voi, cioè non vi lascia, non vi abbandona, quindi anche questo è molto bello. Vi sopporta e vi supporta, quindi grazie Andrea e vi consiglio di provare le sue lezioni gratuite perché poi dopo non lo lascerete più e vi saluto, penso di aver detto tutto, ciao! Ciao!